carissimi pace buona giornata dio vi benedica 12 aprile 7 del mattino spero che state tutti quanti bene e vogliamo leggere questa mattina nella parola di dio in particolare nel vangelo di giovanni soffermandoci sul verso 8 del capitolo 14 dove è scritto che filippo rivolgendosi a gesù gli disse signore mostraci il padre e ci basta chi è il gesù di cui parliamo tanto ogni mattina quando ci ritroviamo insieme per meditare i versi della parola di dio per leggere da libri che parlano delle cose relative a dio ecco un personaggio storico innanzitutto che è nato a betlemme in giudea nel primo secolo della nostra era un personaggio che ha trascorso l'infanzia nazareth in galidea e fino all'età di 30 anni ha esercitato il mestiere di falegname poi nel giro di circa tre anni ha percorso le province della galilea e della giudea annunziando la buona notizia del regno di dio alla fine della sua vita venne processato condannata a morte crocifisso tra due malfattori e dall'inizio dell'era cristiana gli storici riconoscono questi fatti e li hanno riportato nei loro scritti ma oltre a un aspetto storico relativa a gesù c'è anche qualcosa di più e se noi vogliamo veramente sapere chi è gesù dobbiamo leggere i vangeli cioè i primi libri del nuovo testamento i quali raccontano in che modo gesù ha chiamato dodici uomini perché fossero suoi discepoli e come con loro ha percorso il paese per invitare la gente al pentimento e annunciare il perdono di dio i discepoli sono stati testimoni di ciò che è accaduto nel corso dei tre anni della sua vita pubblica e sono stati anche testimoni della sua morte ma gloria a dio sono anche testimoni di qualcosa di più straordinario vale a dire del fatto che egli è risorto dei morti ed è stato assunto in cielo tant'è che loro lo hanno visto salire in cielo ed erano presenti allorquando due uomini vestiti di bianco si presentarono e dissero uomini di galilea perché state a guardare verso il cielo questo gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo leggendo i vangeli in altre parole scopriamo che gesù è molto più di un profeta che trasmette la parola di dio egli stesso è quella parola vivente che rivela dio come padre e se a volte abbiamo pensato che dio sia duro che voglia soltanto punirci vendicarsi per l'offese che gli abbiamo arrecato gesù demolisce tutte queste false idee su dio e ci fa comprendere chi dio è veramente qualcuno che ha tanto amato l'umanità da dare il suo unigenito figlio vale a dire cristo stesso affinché noi potessimo essere salvati quando noi guardiamo a cristo quindi possiamo contemplare innanzitutto l'amore del padre possiamo contemplare le perfezioni del padre i pensieri del padre il cuore del padre in altre parole guardando a cristo noi vediamo il padre anche perché cristo è una delle tre persone della trinità che vive in simbiosi col padre con lo spirito santo ed ecco perché ancora oggi per poter raggiungere dio è necessario seguire l'unica via che ci è stata data vale a dire cristo gesù io sono la via io sono la verità io sono la vita parole di gesù e paolo per dare ancora più forza a questo principio anche se non ce n'era bisogno dichiarerà che c'è un solo mediatore tra di gli uomini e questo qualcuno è cristo allora fratelli sorelle amici cari ricordiamoci sempre che lo scopo della fede cristiana è quello di permetterci di avere una relazione con dio attraverso cristo e che soltanto concentrando lo sguardo su gesù e quindi sulla parola di dio noi possiamo vedere la fede formarsi in noi crescere e diventare completa la nostra vita non è altro che un seguire il cristo il vivente per usare dei termini moderni legati al mondo dei social network dobbiamo diventare dei follower di cristo gesù e quindi dobbiamo essere uomini e donne che parlano come lui parlava agiscono come lui agiva e reagiscono come egli ci ha insegnato non è facile lo so ma questo è lo scopo del cristiano e quando noi mettiamo limite all'opera della grazia diciamo non è possibile allora non possiamo mai vedere realizzarsi quella parola che paolo disse non sono più io ma cristo vive in me se invece anziché cercare delle scuse per continuare a comportarci come a noi piace o meglio come la nostra carne ci suggerisce se invece dicevo mettiamo da parte queste scuse e cominciamo a chiedere al signore aiuto forze guida affinché possiamo vivere una vita che onori in nome del signore vedremo piano piano il nostro io diminuire e la vita di cristo aumentare in noi e manifestarsi in tutta la sua bellezza e in tutta la sua pienezza ogni giorno diventa un'opportunità per mostrare cristo a coloro che vivono in questo mondo e noi spesso usiamo le parole per farlo ed è anche buono ma dobbiamo ricordarci che prima ancora deve essere la nostra vita a parlare per questo camminiamo nelle vie della grazia cerchiamo con tutto il nostro cuore di onorare in nome di dio e chiediamo l'aiuto per poter superare le fragilità della nostra vecchia natura che ancora oggi la grazia la pace l'amore e la presenza del signore siano con tutti quanti noi dio ci benedica insieme grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti